cari amici di youtube benvenuti in questa nuova serie di video della mia lavatrice samsung oggi laviamo questo piumone invernale che è praticamente pronto per essere messo nell'armadio visto che ormai ci avviciniamo all'estate anzi visto il caldo di questi giorni direi che ci siamo già entrati abbastanza bene e direi alla grande per me che io amo l'estate allora come l'abbiamo questo piumone seguendo vari video su youtube ho deciso di farle fare una centrifuga una centrifuga preliminare in modo che il piumone si apra completamente quindi no mille tanto e solo una centrifuga preliminare lasciamo a 800 qui abbiamo la pallina con il detersivo che vi farò vedere dopo con ascoltiamo già la pompa di scarico che sembra volerci deliziare con il suo sound gli facciamo già gli facciamo una bella centrifuga così il piumone si apre bene per il lavaggio principale ok direi che sia scato a da 11 minuti a 9 minuti vuol dire che la centrifuga la prende subito essendo asciutto si distribuisce bene anche se comunque molto pesante questa cosa è una cosa che ho visto su youtube era già un po che volevo fare questo esperimento ok bene 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 e brava la madama anzi non gliela faccio fare proprio tutta tutta e la faccio fare metà tanto l'importante che si apra un po giusto quattro minuti importante che lo apra bene per il lavaggio non gliela faccio fare proprio tutta e la faccio fare metà tanto l'abbiamo a non gliela faccio fare non gliela faccio fare non gliela faccio fare no gliela faccio fare non gliela faccio fare wow ecco ancora quando la dispensa in 5 minuti la fermiamo tanto l'importante che si sia aperto ok direi che può bastare ok direi che per questa prima parte ci possiamo fermare qua ci vediamo nella seconda parte per l'inizio del lavaggio principale e grazie grazie